E questo è quello che fa lo Spirito Santo con noi. Ci apre la mente, ci apre per capire meglio, per capire meglio le cose di Dio, le cose umane, le situazioni, tutte le cose. E' importante il dono dell'intelletto per la nostra vita cristiana. Chiediamolo al Signore che ci dia, che ci dia a tutti noi questo dono per capire come capisce Lui le cose che accadono e per capire soprattutto la parola di Dio nel Vangelo. Così, nella Catechesi dell'Udienza Generale di questa mattina, tenuta in piazza San Pietro alla presenza di più di 80.000 fedeli da tutto il mondo, Papa Francesco ha parlato del dono dell'intelletto, proseguendo le riflessioni sui sette doni dello Spirito Santo. Non si tratta, ha spiegato, dell'intelligenza umana, è invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere, che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell'aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. Questo non significa, ha aggiunto il Papa, che un cristiano possa avere una conoscenza piena dei disegni di Dio, però l'intelletto permette di leggere dentro e questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio. Ci rende partecipi del disegno d'amore che Lui ha con noi e ci aiuta a capire il vero senso della storia. Uno può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ha concluso Papa Francesco, ma se noi leggiamo il Vangelo con questo dono dello Spirito Santo, possiamo capire la profondità delle parole di Dio. Grazie a tutti.